Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi con i Ministri Maurizio Lupi, Maurizio Martina e il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, assieme ad altre cariche istituzionali, hanno tagliato questa mattina il nastro all'inaugurazione della nuova autostrada diretta Brebemi, sulla nuova infrastruttura da un giudizio positivo anche la CISL Lombardia. Bisogna cominciare a parlare anche del positivo, basta solo denunciare le cose che non vanno, è chiaro che siamo in una fase difficile dove dobbiamo rendere i nostri territori più competitivi, dobbiamo attrarre investimenti, creare condizioni che attraverso lo sviluppo si ricreino risposte di occupazione e per fare questo servono tante cose, compreso il fatto di avere un territorio ben infrastrutturato, per cui noi riteniamo che sia una bella giornata per la Lombardia, per la Lombardia dello sviluppo, per la Lombardia che deve aggredire questa crisi e dare una scelta forte rispetto al tema più emergente che è quello dell'occupazione, per cui ben vengano le opere che si chiudono e che si impari da questi processi a farne sempre altre in modo adeguato e in tempi magari anche più stretti.